Bene, abbiamo il candidato Bernardino Gallo della formazione 1, che vuol dire 1, ce lo spiegherà meglio lui, ed è appoggiato da due liste, se non vado a dire altro. Voglio fare subito una prima osservazione. Qui al programma, questa è l'unica formazione che al programma generale ha allegato una dettagliatissima e anche interessante, tecnicamente valida, relazione sulla possibilità di intervenire per l'eliminazione delle barriere architettoniche e soprattutto sull'impradicabilità dei marciapiedi. Perché come noi tutti sentiamo dalla televisione a Roma, hanno il problema delle buche, noi qui abbiamo il problema dei marciapiedi che sono ondeggianti fino a un limite massimo di 3 o 4 cm, per cui anche di più, anzi forse 30, forse ho detto male io. Per cui di questo voglio dare atto al candidato. Io ho letto quelle relazioni, nelle relazioni si riconosce che c'è un problema, cioè che siccome i marciapiedi dovrebbero essere a carico dei proprietari degli edifici che si affacciano, in questo momento di grave crisi e in particolare, soprattutto anche nella nostra zona dell'edilizia, potrebbero nascere problemi di costi. Ecco, io volevo chiedergli tutte quelle opere che sono così ben descritte. Allora, intanto nella relazione si dice già che le soluzioni trovate sono le più economiche possibili, ma tutti questi interventi di chi sarebbero a carico? Per quanto riguarda le nostre linee programmatiche, che erano di carattere generale e comunque subordinate a due cose, uno a integrarle con temi monotematici o altro, come quello che tu hai citato, e l'altro è subordinato alla verifica di quanto ci sia nelle casse del Comune, considerato che ogni mese capita un esproprio da pagare. Su questo tema io penso che carente questa amministrazione sia stata, ne non aver tentato ad ogni costo di fare delle conciliazioni, perché al costo reale aggiungi quelli dei legali tuo e quello del contendente o del avversario. Quindi c'è stato quel tema lì, poi c'è stato quello dei frontalieri, ma noi l'abbiamo sempre organizzato in modo tale da dare spazio alle realtà locali. I frontalieri per esempio, mi sono creato un gruppo nuovo, io mi sono messo di lato, avete le foto, e li ho lasciati parlare, perché i due miei slogan sono stati copiati, popolo sovrano e domodosso la capitale, capoluogo anzi, l'hanno scopiazzato tutti, però bisogna vedere la credibilità. Per quanto riguarda i marciapiedi, è vero che ne rispondono i frontisti, ma come tu sai, in molte altre realtà come per esempio via Gentinetta o altre strade, gli alberi mica sono dei frontisti. Vedrai, non so, in via Gentinetta o anche in via Rosmini, i marciapiedi che si sono alzati, le beole che si sono alzate anche di 30 centimetri, ovviamente ha responsabilità, non è del frontista. Problema complesso, complicato, che bisognerà trovare i tempi migliori e le risorse, sia da parte del Comune, sia da parte, perché si possono anche fare una convenzione con gli stessi, insomma, per tentare di fare un programma che queste barriere architettoniche che le rimuova. Poi le barriere architettoniche ci sono anche nel vecchio borgo, perché se vedi la larghezza delle beole per terra, non consente a uno in carrozzera di circolare, come tu ben sai. Bene, ti ricordo che noi abbiamo 15 minuti, è per tutto. Allora, volevo chiederti perché nuova una, cioè rispetto al SOS Ossola, che pure aveva avuto un grosso successo dal punto di vista sui social network, perché tutto sommato era una voce effettivamente che ha combattuto, fino a, anche con argomentazioni sostanziali, insomma, ha combattuto sulla sparizione praticamente dei servizi nell'Ossola. Perché si è deciso di passare a una che dovrebbe essere una forma di autonomia per tutto il verbano Cusio-Ossola? In cosa si differenzierebbe la vostra proposta da quella di Borghi, per esempio della provincia autonoma montana, insomma? Ma la cosa è molto semplice, SOS Ossola è andato avanti per 5 anni, non solo difendendo, ma dando anche consigli e collaborando. Sostanzialmente difendendo i servizi non solo dell'ospedale, ma anche avendo il merito di aver fatto arrivare qui a Demodossola l'emodinamica, poi si mettono le medaglie, però io posso dimostrare in qualsiasi momento che almeno l'80% in merito era di essere SOS Ossola. Perché è finita questa storia? Perché almeno da 6-7 mesi il pensiero unico al quale tutti si stanno convertendo, sinistra, ex-democristiani, post-democristiani, sindaci di qualsiasi colore, sposando le tesi dell'ospedale unico, casomai più giù di Ornavasso e via discorrendo, si è alzato un muro invalicabile. Noi possiamo fare tutte le accuse di questo mondo, comprese alcune gravissime sulle quali non so come mai gli enti responsabili non intervengono. Un mese fa avevo denunciato che i due DEA, di Verbani e di Domodossola, hanno un carico di lavoro tale che il 50% del personale è malato, non può fare le notti, si deve trasferire, su questo nessuno è intervenuto. Però tutti si sono adeguati alle... spesso sono delle fandonie. Io spero che sia la Fandonia e anche l'ospedale di Ornavasso, perché se verrà realizzato costerebbe il doppio per 30 anni di quello che costano oggi i due ospedali. Ma io penso che il disegno vero sia quello di spogliare ulteriormente l'ossole e il Domodossola e attivarsi a trasferire l'attività a Verbani. E' nata una, perché mi sono reso conto che la stragrande maggioranza di partiti e movimenti sono non credibili. E quindi ho lanciato, e quindi la vicenda delle elezioni di Domodossola è soltanto una pausa, in attesa di un rilancio, di un movimento nuovo che non si chiude come in passato l'Uopo o altri movimenti nella riserva indiana dell'ossola. Ma guardi oltre, è molto diversa dalla provincia autonoma. Quando l'ha presentata, Enrico Burghi con tutti i sindaco e via discorrendo, io gli dissi, la nostra è una realtà tripolare, per cui occorre una provincia autonoma, ma anche federale. L'uomo ha detto, ma la strada è molto lunga. Io gli suggeri, sai sono come un jukebox, a domanda metti la 50 lire e ti fai la canzone. Diciamo, basterebbe che nello statuto alcune decisioni importanti venissero prese a maggioranza qualificata. E il problema sarebbe risolto. Per cui, una realtà che non tiene conto, che non tenga conto di queste tre realtà, una delle quali è dimezzata, il Cusio, e l'altra è depredata, non va bene, va assolutamente bene. Quindi mi pare di capire che la questione dell'ospedale per te sia rimasta centrale, comunque in ogni caso la consideri tutt'altro che chiusa. Ho letto però, anche nel vostro programma, che non dico che siate favorevoli a Piedimulera, ma quantomeno fra le soluzioni Ornavasso-Piedimulera, visto che là c'erano già tutti i permessi, erano state individuate le aree, quella potrebbe essere una soluzione anche più praticabile dal punto di vista, oltre che meno inaccessibile, ma anche più praticabile dal punto di vista delle pratiche necessarie. Tu cosa ne pensi? Io in passato, quando acqua sotto i ponti del Turce non era passata tanta, dirla in parole povere, l'Ossola non era stata depredata di tutti i servizi o quasi, ero favorevole all'ospedale di Piedimulera per tutta una serie di questioni. Del resto, le indagini idrogeologiche sono state fatte, la modifica dei piani regolatori fu realizzata, costava anche quello. Il progetto che è di Renzo Piano è di Veronesi come consulente, e lì da vedere, c'ha 50 posti in più di quelli che vorrebbero fare, di quelli che vorrebbero fare, piuttosto che farlo in collina, in una realtà che non è nemmeno dell'Ossola, ma è più vicina a Verbania, mi sembra una presa per i fondelli. Ma anche la strada che loro hanno indicato, ammesso che vada avanti, sempre con ulteriori sprechi di soldi per ulteriori indagini e via discorrendo, costerebbe per 25-30 anni il doppio di quanto costano oggi i due ospedali. Se è andata a vedere una sentenza della Corte dei Conti del Veneto che criticava l'ospedale di Mestre, c'è bisogno solo di un pallottorire, nemmeno della calcolatrice, per stabilire che grossomodo il costo sarebbe il doppio di quanto costano oggi i due ospedali. Bene, restato su questo tema, ricordando che tu avanti una grossa esperienza in questo campo, per essere stato anche Presidente del nostro ospedale, proprio nei tempi in cui partì la riforma sanitaria, il nostro ospedale fu purtroppo anche penalizzato, come è stato ricordato anche da altri candidati, proprio per la spesa storica. Siccome era buono, il domodossola era il secondo ospedale della provincia dopo Novara, perché oggettivamente la situazione è questa. Documentalmente, adesso, la situazione è ancora così, dal punto di vista numerico, o ci sono state variazioni? La qualità è ancora eccellente. Ci sono delle criticità, come dicevo prima, di cui la responsabilità è la carenza di personale, che mette in discussione alcuni servizi, non solo il DEA, di cui ha accennato prima, ma anche le attese, e questo favorisce anche i privati, naturalmente, oppure il medico che fa gli interventi privati, intramenia, si dice, tra le mura dell'ospedale, si fa pagare. Anzi, di recente, ho lanciato una proposta, quando ci sono delle liste così lunghe, l'intramenia se ne deve far carico il pubblico, e quindi se ne dovrebbe far carico la sanità. Però, in tutto questo contesto, chi è penalizzato è sempre l'ossolano. Anche per i posti d'agenza, di cui i posti letto sono 70% privati e 30% di 15% sono in ossola, ecco, anche quelli posti d'agenza o di continuità terapeutica, gli ossolani devono andare alle rime di Meazzina. Mi dici brevemente, dopo tutte queste considerazioni, perché i domesi dovrebbero votare per te? Perché sono esperto, sono una garanzia, ho mantenuto sempre la parola, anche quando non l'ho data. Come tu accennavi, quando ho gestito la sanità, anche da tecnico, non avevamo nemmeno direttore sanitario, e quando c'era, era esperto ad altro, come la buonanima del dottor Conago, mio caro amico, espertissimo in igiene pubblica, ma direttore sanitario. Per cui, tutti i servizi dell'ospedale, quelli importanti, furono realizzati in quel periodo. Grazie allo sforzo fatto da me, dalla squadra, dagli operatori, e comunque la situazione anche allora era che esisteva i poteri forti di Verbalia, cioè nonostante, se una capacità, voglia e determinazione riesce a sconfiggere i poteri forti.